Il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti lascia l'Abruzzo per ricoprire un nuovo incarico. A due anni dal suo arrivo tante le operazioni portate a termine nella lotta alla criminalità sul territorio e proprio al termine di questo incarico arriva, insieme ai suoi saluti, un bilancio del suo operato. Due anni di grandissima soddisfazione delle operazioni che hanno dato lustro all'arma dei carabinieri, hanno confermato ancora una volta come quando sono arrivato un tessuto sociale dell'Abruzzo molto valido, molto coeso e in particolare quello della provincia di Chieti. Due anni a Chieti che erano stati preceduti da un incarico all'Aquila. L'Abruzzo non era nuovo al suo operato ma oggi, spiega, si può delineare un quadro distinto della criminalità. Quadro dove a incidere profondamente è proprio la territorialità. Esistono differenze nette tra la costa e le aree dell'entroterra, spesso a incidere e anche la contingenza tra regioni. Non conoscevo bene quella della costa, sicuramente più fervida e più vivace di quella del territorio aquilano che io ricordavo. Però, ripeto, un territorio sostanzialmente sano con qualche piccola effervescenza nella parte meridionale, per le noti, anche per le contiguità geografiche e con delle risposte operative che sono state, per il meno dal mio punto di vista, molto molto soddisfacenti.